Ciao a tutti ragazzi, buon Natale a voi, alle vostre famiglie e che in questa giornata tutti i vostri desideri si possano realizzare. Auguri, auguri e auguri. Non ho messo la canzoncina come sempre perché ragazzi quest'anno il video regali è una bomba e sarà diviso in due parti perché Babbo Natale diciamo ha un po' esagerato, quindi direi di cominciare e di partire subito perché come vi ho detto sarà diviso in ben due parti e quindi iniziamo immediatamente da primo regalo che è il classico immancabile, la Barbie Olide 2023 che celebra appunto quest'anno il 35esimo anniversario. Come potete vedere è stupenda, io ovviamente ho scelto lei, molti sono impazziti per la latina ma a me lo sapete interessa Barbie, la trovo divina, la scatola anche molto bella, eccole qui, molti sono impazziti per lei però per me Barbie resta Barbie veramente splendida, stupenda. Passiamo al prossimo. Allora qui abbiamo Barbie e Brooklyn Let's Go Camping Tent con tantissimi accessori, anche questi animaletti, le carte 1, sono veramente molto belle, eccole qua, qui possiamo vedere un'ampia ed esaustiva panoramica del prodotto, vedete? Non so mai se riuscirò a montare questa tenda ma nel caso vi aggiornerò. Allora qui abbiamo Barbie Art Studio, ho questa Barbie molto carina e tutti gli accessori per fare appunto i lavori, infatti qui ci mostra appunto i lavoretti che possiamo fare, girando la scatola riusciamo a vederlo meglio nei dettagli, vedete? Eccola qua, è veramente molto carina. Qui abbiamo la stanza di Barbie che è veramente bellissima, lei freschissima, un viso stupendo, molto bella con il lettino, il suo artwork veramente splendida, ci sono 15 più accessori e qua possiamo notare in dotazione e qua ovviamente girandola la vediamo bene nei dettagli, è veramente stupenda. Questa stanza adoro. Qui abbiamo la nursery di skipper, babysitter, dovete vedere ci sono tantissimi accessori, tutti messi qua, dietro la vediamo meglio, è proprio una nursery, è veramente stupenda. Poi abbiamo la scuola di Chelsea, è un Chelsea con gli occhiali seduta sul suo banchetto, veramente stupenda. E' carinissima questa Chelsea. Qui abbiamo la bellissima cornetteria di Barbie, tutto l'occorrente per fare dei cornetti e dolcetti per la colazione. Infatti qui ci dice che questo playset è tratto direttamente da un episodio, Barbie siamo in due. E ci sono 18 più elementi, è veramente splendida. Questo qua, se avrò tempo, vi farò la recensione, ci faremo due risate e vediamo come escono questi cornetti. Qui lo vediamo appunto nei dettagli. E' stupendo, vedete, si dovrebbero fare questi cornetti donut per la colazione. Qui abbiamo il negozio degli animali di Barbie, con 25 più accessori, veramente molto bello. Oh, qui c'è pure l'amore mio. Eccolo qua. Stupendo. Qui abbiamo questa bellissima Barbie Dreamtopia, principessa, che può trasformarsi in sirena. Ecco, qui possiamo vedere le sue due modalità. Qui abbiamo Barbie Pediatra. Eccola qui sempre nei dettagli. Ando un po' più veloce, ragazzi, no il video non finisce più. Qui abbiamo questa Barbie Esploratrice. Credo che sia un'esploratrice veramente molto carina, super accessoriata. Eccola qua. La vediamo meglio nei dettagli. Qui abbiamo lei. Veramente bellissima. Questa Barbie Afro. Vedete? E' stupenda. La pelle è molto scura, come piace a me. E sempre della Web. Mi è arrivata anche questa qua. Che è una Curvy. E' una giocatrice di hockey. Qua possiamo vedere appunto nel dettaglio. Vedete? Fa parte della stessa Wave. Poi Barbie Fruttarola. Nella serie You Can Be Anting. Molto molto carina. Vi possiamo vederla nei dettagli. Poi abbiamo questa Barbie Stilista. Che mi è stata regalata. E abbiamo una scatola un po' anonima. Ma dentro c'è Barbie, come la vedete qui sulla sagoma. Fatta in questo modo. Speriamo che la Barbie all'interno sia messa bene. Questi sono tutti i suoi accessori. Il packaging di questa Barbie lascia molto a desiderare. Devo dire la verità. Speriamo che il contenuto sia meglio. E poi a lui. Che praticamente me l'hanno regalato i miei amici. Questo qua ormai è introvabile. Ma io sono bastato di gioia. Quando l'ho visto. Perché è stupendo. E ringrazio i miei amici Marco e Luigi. Per questo regalo. Ragazzi grazie. Veramente stupendo. Io non lo trovavo più. Stavo impazzendo. Quindi grazie di cuore. Perché insomma. Con questo qua. Sapete che andate sul sicuro. Però purtroppo non si trovano più l'amore mio. Bellissimo. Stupendo. E mi hanno regalato anche questo outfit. Che è veramente splendido. E fa parte di una wave non recente di Ken. Bello quando è frisch. Eccolo qua. Bellissimo. Poi c'è questa Brooklyn campeggio. Con tutti gli accessori. Eccola qua. Qui possiamo vedere. Io ho Barbie e Ken di questa serie. Mi mancherebbe soltanto Daisy. Poi qui abbiamo Barbie calciatrice. con la porta. Sempre della serie You Can Be Hunting e la bambina. Questa no è Barbie arbitro scusate con la bambina calciatrice. E qui possiamo vederle nei dettagli. Qui invece abbiamo questa bellissima auto di Barbie che ha il distributore della benzina per potergliela appunto simulare l'effetto e mettere la benzina. Spero che ci vada il mio frescone dentro perché gli voglio mettere lui. Non so se ci entra però farò una prova. Dentro è fatta così. E dietro possiamo vederla nei dettagli. Vedete? Qui si può mettere la benzina all'interno. Bella, molto bella. Poi c'è questa extra mini mini afro. Molto carina. Poi abbiamo lei che praticamente cosa fa? Ah, lei è la fotografa degli animali. Molto bella, sempre afro. E stupenda. E poi abbiamo questa Chelsea. Con tutti questi accessori. Della serie Barbie Dreamhouse Adventure. Molto carina. Dietro non c'è nulla, il vuoto cosmico. Poi abbiamo questa Barbie Extra Deluxe. La versione 2 è super accessoriata. Lei è molto bella. Anche se so che la fibra farà pena. Però molto carina. Con i vestiti e tutto. E dietro possiamo vedere le varie combinazioni. Trenta e più il look ci dice. Ed eccola qua. Poi abbiamo questo splendido, bellissimo playset di Barbie Extra Minis. Con Barbie inclusa proprio all'interno. E ci sono tantissimi accessori. Che girando la scatola noi possiamo scrutare bene. Vedete? C'è anche la scatoletta come se volessimo metterla appunto in una scatola per bambole. E che dire, è veramente stupenda. Lei adoro tantissimo. Poi abbiamo la casa di Chelsea. Con 20 e più accessori. Questa è una casa. Con le Chelsea. Che è molto bella. Questi sono tutti gli accessori che sono inclusi al suo interno. Qua possiamo vedere nei dettagli come sarà il risultato finale. Tutte le pose messe qui. Vedete? Bella. Ecco qua. Poi abbiamo loro tre. Lei. Lei. Bellissima. E Ufricconomia. Beach. Che sono pronti per andare dove restate lì. Eccoli qua. Per andare sulla barca dei sogni di Barbie. Eccola qua. Il pezzo forte. Bellissimo. Il dream bot. Qui ci dice che contiene 6 aree da gioco. Quindi loro tre ripartiranno. Con 20 più accessori. Bellissima. La barca dei sogni. E qui possiamo vederla appunto nei dettagli. Meravigliosa. Bene amici. Il video dei regali prima parte finisce qui. Vi aspetto per la parte 2. Un bacione. E mi raccomando al prossimo video che sarà tra brevissimo. Ciao.